Scene da un matrimonio e che matrimonio ad Alberobello. Nella città dei Trulli la produzione di Beautiful, la famosissima soppopera americana in onda da 25 anni, ha deciso di far convolare a giuste nozze Brooker Ridge. Dopo il matrimonio di Liam e Hope nella splendida cornice di Polignano Amare, la coppia più famosa del piccolo schermo pronuncia l'ennesimo sì in uno dei posti più suggestivi della nostra regione. Gli episodi pugliesi arriveranno sugli schermi italiani tra sette mesi circa. I set sono stati quotidianamente presi d'assalto dagli innumerevoli appassionati. In fondo il sogno di una vita da sopp è proprio lì a pochi passi, tanto vicino da poterlo toccare. Questa volta non è uno schermo a separare la realtà dall'immaginazione, ma è solo una piccola transenna a dividere i fan di sempre dai protagonisti di Beautiful. Dieci gli episodi girati tra Alberobello, Fasano e Polignano Amare, con i personaggi che per 25 anni hanno vestito la trasgressione col suo abito più elegante e portato nelle case degli italiani tradimenti, passioni, amori ed intrighi di ogni genere.